Fondazione Tercas e Università degli Studi di Teramo ha braccetto nel lanciare un master di primo livello per migliorare le competenze di chi opera nelle organizzazioni del terzo settore. Un master appunto che si rivolge principalmente ai soggetti laureati interessati ad operare nell'ambito di enti del terzo settore e presso enti pubblici e privati che interagiscono con enti no profit. È un ulteriore esempio di collaborazione istituzionale, quindi un ringraziamento sentito alla Fondazione Tercas per un impegno non indifferente a livello economico con queste 20 borse di studio. Ricordo che i percorsi formativi post laurea non sono finanziati dal Ministero, quindi le interazioni con il territorio e con strutture tipo la Fondazione Tercas sono fondamentali, altrimenti questi corsi farebbero fatica poi a decollare. Per questo master la Fondazione Tercas ha deliberato l'erogazione di 20 borse di studio al fine di poter formare professionalità altamente specializzate e consentire alle organizzazioni del terzo settore di competere al meglio per il raggiungimento dei loro obiettivi, come spiega la Presidente Tiziana Di Sante. Abbiamo inteso riservarle agli abitanti della nostra provincia, ma a chi già lavora da tempo negli enti del terzo settore e quindi proprio a dire che questa importanza di rinnovare le proprie competenze sia alla luce della riforma ma anche alla luce delle grandi sfide che ci aspettano nell'ambito del Piano Nazionale di Resilienza e Resistenza che dedica alla coesione sociale fondi importanti. Questi fondi devono arrivare però sul territorio e ci devono arrivare con delle iniziative che abbiano una ricaduta misurabile, effettiva e da cui anche l'importanza della valutazione di impatto a breve e lungo termine sul nostro territorio. Le risorse in qualche modo diminuiscono, soprattutto diminuisce la loro distribuzione a pioggia. Ecco perché dobbiamo essere sempre più competitivi nei processi di accreditamento presso i nostri interlocutori europei e nazionali.